Si è concluso il terzo raduno d'auto d'epoca terre dello Zolfo e delle Zolfare con partenza e rientro ad Aragona dopo aver attraversato nove comuni agrigentini. Ad organizzare l'evento è stata l'associazione Zolfare Historic Car, il servizio di Gaetano Ravana. Il fascino delle nonnine colpisce ancora, oltrecendo le auto d'epoca e le moto che hanno dato vital nella giornata di ieri al terzo raduno delle terre dello Zolfo e delle Zolfare, un evento organizzato dall'associazione Zolfare Historic Car. La fitta carovana ha attraversato ben nove comuni dell'agrigentino dove migliaia di persone si sono riversate lungo le strade per poter ammirare da vicino questi mezzi senza tempo. È stato durissimo il lavoro svolto dagli organizzatori a cominciare da Nino Puletto che a bordo della sua moto ha guidato il corteo che si è radunato al comune di Aragona alla presenza del sindaco Peppe Pendolino e dell'assessore Raimondo Chiara che ha creduto fin da subito all'evento. Che si tratti di un vero e proprio evento lo dimostra la partecipazione di diversi appassionati che sono arrivati da ogni angolo della Sicilia. Una manifestazione che edizione dopo edizione continua sempre più a crescere. Dopo Aragona dove la carovana dei partecipanti è rientrata dopo un giro di diversi chilometri un'altra tappa importante è stata quella di Ioppolo Giangaxio dove l'amministrazione comunale ha offerto a tutti i partecipanti un rinfresco in piazza. I complimenti che abbiamo ricevuto dicono gli organizzatori ci ripagano dei tanti sacrifici fatti in queste ultime settimane. La nostra è una passione ma abbiamo notato che è una passione comune a centinaia di migliaia di persone. Abbiamo subito creduto a questa manifestazione dice l'assessore comunale di Aragona Raimondo Chiara. Siamo certi che visto il successo ottenuto che ci saranno altre edizioni. Il fascino delle nonnine è irresistibile. Prossimo appuntamento con le auto e le moto d'epoca a metà ottobre nello splendido scenario della Scala dei Turchi di Real Monte.